Asilo Nido, efficientamento energetico, riduzione del rischio sismico idrogeologico e messa in sicurezza e riqualificazione di immobili, strade ed edifici comunali. Questi gli indirizzi di finanziamenti che andranno a beneficio del Comune di Caprileone per complessivi 270 mila euro. Grazie a 150 mila euro si consentirà al Comune di affrontare i primi tre anni di gestione del nuovo Asilo Nido. Queste somme si aggiungono al finanziamento ottenuto a suo tempo dall'amministrazione Grasso, che ha consentito la costruzione del nido, assicurando già una parte delle risorse per provvedere al suo funzionamento nel primo triennio. Con i nuovi fondi, per lo stesso periodo, la gestione sarà quasi interamente coperta. Si tratta di fondi gestiti dall'assessorato regionale alla famiglia. A fronte di 8 milioni di euro disponibili, sono stati inizialmente presentati a Palermo progetti per soli un milione e mezzo di euro. È stato l'assessore regionale Bernadette Grasso, che ha promosso ed incentivato presso i Comuni affinché aderissero al bando, in modo da assegnare ulteriori 4,5 milioni sui sei rimasti disponibili. Da pochi giorni sono stati poi pubblicati i riparti delle somme per i Comuni, da destinare a una serie di finalità, fra cui l'efficientamento energetico e la riduzione del rischio sismico idrogeologico. A Caprileone toccheranno circa 70 mila euro. In ultimo, 50 mila euro arriveranno dal Ministero dell'Interno per la messa in sicurezza e riqualificazione di beni immobili, strade ed edifici appartenenti al patrimonio comunale.